Come faccio a farmi inviare i prodotti delle aziende? Se siete curiosi di scoprirlo, rimanete qui dopo la sigla. Miss Creamy Creamy, la 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 Prima di cominciare, una piccola premessa. Può capitare nel video che io uso il termine Beauty Guru. Beauty Guru Adesso. Beauty Guru non si intende massima esperta del make-up mondiale e dell'universo. Si intende Beauty Vlogger, solo che Beauty Vlogger non mi viene. Beauty Guru era un'etichetta che inizialmente YouTube assegnava, quando quasi tutte noi abbiamo aperto i canali, alle persone che volevano fare tutorial. Se facevi tutorial di make-up, eri una guru del make-up. Se facevi tutorial di bricolage, facevi il guru del bricolage. Chiusa questa piccola parentesi, possiamo andare avanti senza misunderstanding e senza commenti odiosi tipo Ciao, tu sei una guru? Non credo che con questo video vi svelerò niente di strano. Ossia, il contatto tra aziende e Beauty Guru, ricordiamoci quello che ho detto prima, è un contatto assai elementare per quanto riguarda il marketing. Ossia, ci sono le aziende del make-up che vedono in YouTube e nelle Beauty Vlogger un futuro, uno sbocco per la loro pubblicità. E poi ci sono le Beauty Guru, che cercano sempre nuovi prodotti da recensire, a cui fa piacere ricevere qualcosa e che vogliono parlare di cose nuove. Vengono in contatto in tre modi diversi. Uno, l'azienda contatta la Beauty Guru perché ha visto dei video che gli piacciono, ha visto un post su Facebook che gli piace, ha visto i suoi numeri, quindi ha visto l'alto numero di iscritti e quindi è disposta a mandare prodotti perché crede di avere una pubblicità maggiore e quindi questo è il primo. Il secondo modo è quello che la Beauty Guru vede una marca che gli interessa, pensa di avere i numeri o le caratteristiche giuste per collaborare con tale marca, manda un'email e dice salve, sono pincopallina.com, vorrei recensire i vostri prodotti oppure vorrei collaborare con voi. Ne avete voglia? Questi sono i miei numeri, questi sono i miei contatti. Il terzo modo è che la Beauty Guru in questione sia stata presa da un'agenzia, ossia un'agenzia di PR di pubblica relazione che cura le collaborazioni delle ragazze che fanno video su YouTube e quindi viene guidata, in questo caso la ragazza, da questa agenzia. che la propone ai vari marchi. Però io non avendo appunto delle tempistiche fisse, come vedete la mia vita è un po' caotica, non mi sono sentita di dare il mio impegno ad un'agenzia. Come funziona poi la ciccia, cioè come si lavora con il prodotto che l'azienda riceve? Dipende moltissimo dalla ragazza in questione, ossia ci sono le ragazze che decidono di voler guadagnare con le recensioni, che è una scelta assolutamente legittima perché ognuno guadagna assolutamente come vuole, ci sono le ragazze che addirittura non fanno recensioni e non vogliono ricevere prodotti e ci sono quelle come me che sono una via di mezzo. Nel senso che io quando ho contatto una ditta sono sempre molto specifica sulle mie richieste perché non voglio poi ritrovarmi con brutte sorprese, voglio che la ditta abbia in mente una chiara idea di quello che voglio fare io, ossia in genere io richiedo di non dover per forza fare un video sui prodotti, di poterli usare quando mi pare piace, che se mi va ci faccio un video, se mi va no e dico quello che mi pare. Anche perché io chiacchiero un sacco, io direi lo stesso quello che mi pare, anche se io dovessi dire solo delle cose prestabilite, quindi non sarebbe molto conveniente neanche per l'azienda darmi qualcosa da dire, io sono un po' fuori. Ovviamente secondo me, che è mia personalissima opinione, quando inviano un prodotto bisogna dirlo, io infatti specifico sempre nella leggenda dei prodotti quando faccio un tutorial, quelli che mi hanno inviato, vi metto un asterisco oppure ve lo dico, quando indosso qualcosa in un video che mi hanno inviato, metto il link e metto l'asterisco, secondo me è una forma di onestà, però non tutti la vedono così, il mondo non è solo bianco e nero, ci sono varie sfumature di grigio, 50 sfumature di grigio, e quindi andiamo avanti così. Spero di avervi svelato l'arcano, come vedete niente di complicato, ovviamente gira tutto attorno ai numeri, alle aziende che vogliono sfruttare il nostro rapporto, perché ovviamente tra me e voi non c'è lo stesso rapporto che tra l'avventura e voi. Cioè voi credo che mi vediate, spero, mi auguro, che vi vediate molto meno irraggiungibile dell'avventura. Io sono una di voi, ma proprio, propriamente letta, nel senso che sono una ragazza assolutamente normale, non sono una celebrità. Quindi le aziende contano sul fatto che avendo grandi numeri, una ragazza possa far passare la pubblicità del prodotto, l'uso del prodotto come un consiglio. Adesso, ovviamente, secondo me, anche quando io ero semplicemente un utente di YouTube, che ancora queste cose non si sapevano, non si sapevano che le aziende inviavano i prodotti, secondo me non bisogna mai comprare sulla fiducia. Ossia, io quando dovevo comprare qualcosa, andavo, guardavo tante recensioni, se erano per la maggior parte positive, se potevo, provavo il prodotto, altrimenti me lo facevo inviare. Certo, è sempre un salto nel vuoto, perché è una cosa che può piacere a me, può non piacere a Giuliana, può non piacere a te, però, insomma, ovviamente, comprare prodotti così è sempre un po' un rischio, non bisogna prendersela con nessuno, è una decisione che si fa autonomamente. Quindi, detto questo, io spero di avervi fugato qualsiasi dubbio su come funziona la cosa. Mi chiedete anche spesso, ma voi, guru del make-up, siete tutte d'accordo? Siete tutte amiche? No. Ovviamente, come fossimo per strada, in una classe, in un ufficio, ci sono quelle che ci stanno più simpatiche, quelle che ci stanno meno simpatiche, quelle che sono più compatibili con noi, quelle meno. come ovunque, io non ho antipatie fortissime particolari, però, ovviamente, si vede benissimo che io mi trovo, per esempio, molto bene con Vanessa. Io tutte le volte che vedo Vanessa siamo sempre insieme, sempre ci, 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 perché ci siamo trovate? E non siamo tutte d'accordo, perché alcune dicono, eh, alcune amicizie sono a tavolino. Bah, magari sì. Per quanto mi riguarda, non ne ho mai viste di amicizie a tavolino, nel senso che agli incontri in cui sono andata c'è sempre una certa alchimia tra le persone che di solito stanno insieme sui video io non ho mai riscontrato, credo mai, niente di finto con i miei stessi occhi quindi non vi so dire, però insomma non prendeteci come un banco di calcolatrici si fa tanta fatica a calcolare ragazzi, dovete pensare che tutti noi oltre ai video abbiamo anche un'altra vita quindi se noi stessimo anche a fare troppe strategie, perché ovviamente le strategie ci sono gli orari, che trucchi fai, in che periodo, seguire la moda ovviamente le strategie ci sono, ma se stessimo a fare troppe strategie secondo me vivremo solo in base a youtube che cioè, voglio dire, non è, però insomma ognuno però come vuole, magari c'è qualcuno che lo fa ma io ne dubito fortemente ok, io spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato quello che vi aspettavate lasciatemi un commentino qui sotto se avete altre domande o consigli per i prossimi video e noi ci vediamo prossimamente, mi sto impegnando, sto facendo un sacco di video altra cosa, vi piace la nuova postazione video? un po' romantica, un po' imbrosa, un po' giù è quella per i vlog per i vlog, per i vlog, 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 vlog sarà quella per i vlog d'ora in poi per gli haul di vestiti e per gli outfit e sto preparando una cosina in questa parte qui che non vi posso far vedere ancora perché non è in montagna, non c'è nulla però sto preparando una cosa che sarà sicuramente bellissima in video lo spero, anche perché io ho sempre invidiato tipo Vanessa Kiss & Makeup che possono far vedere sempre il solito sfondo io invece cambio sempre, è sempre disordinato e schifoso quindi questo sarà lo sfondo per i video chiacchierini e spero che vi piaccia fatevi sapere anche questo se vi è piaciuto il video spolliciate e condividete anche questo si chiama strategia di marketing ciao ciao we fit like two birds in a house on the corner of six and eight I've gotta say who would have thought that we'd be intertwined and quite the same we are the only game I wanna play hey 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 hey